come sempre ogni volta che pensiamo di aver afferrato quello che è il vino siciliano il modo di fare vino appunto all'interno di questa regione crediamo di aver imparato a conoscere una delle denominazioni ci rendiamo conto che il mondo legato a questa regione ci sa sorprendere sempre di più rimanendo quindi nella zona di del cerasuolo di vittoria anzi andando proprio a vittoria troviamo una delle aziende che ha disegnato proprio il tracciante del successo di questa denominazione e stiamo parlando di un'azienda che ha rivoluzionato i canoni di lavoro ovvero cos il nome e l'acronimo di cilia occhi pinti e strano che sono i tre giovanissimi che nel 1980 hanno dato vita l'azienda su quelli che erano dei terreni di proprietà del primo segnatevi però il nome giusto occhi pinti e poi capiremo anche il perché negli anni 80 ovviamente la sicilia ma l'italia in generale era in una fase di rilancio si cercava quindi di far capire erano gli anni in cui poi venuto fuori anche lo scandalo del metanolo che si poteva fare grande qualità in questa nazione e la sicilia non era sicuramente seconda a nessuno poteva esprimere una qualità assoluta si decide quindi di farlo però innovando utilizzando delle tecniche antichissime tant'è che cos è caratterizzata intanto da quello che è l'ambiente pedoclimatico perché rispetto alla zona più vicina ai monti iblei dove abbiamo comunque più respiro abbiamo più escursione termica qua vittoria siamo veramente in pianura quindi abbiamo un clima che è decisamente mediterraneo sotto tutti i punti di vista e il modo per assecondare questo clima e le sue caratteristiche con questo suolo che comunque tende sempre al sabbioso è quello di andare a utilizzare l'anforo oggi l'azienda cos ha introdotto anche l'utilizzo del cemento vetrificato per alcuni dei vini però per anni il passatemi termine marchio di fabbrica è stato proprio l'utilizzo dell'anfora per andare a vinificare e affinare i vini quando parliamo di affinare e vinificare i vini stiamo parlando anche dello stesso cerasuolo di vittoria quindi il vino principe della denominazione della docg quindi la volontà di andare a utilizzare un contenitore che tecnicamente è un contenitore inerte quindi permette al vino di seguire una sua strada di evoluzione senza entrare in nessuna in nessun modo in maniera tranchante su quello che appunto è il percorso del vino stesso un'azienda dedita a seguire quelli che sono i dettami principi di rudolf steiner quindi della biodinamica un'attenzione maniacale a quello che accade in vigna seguendo appunto i cicli lunari andando a creare i preparati impacchi tisane andando poi a lavorare sul corno letame quindi tutto quello che prevede classicamente il lavoro sulla biodinamica andando a favorire l'ambiente così che riusciamo a portare a perfetta maturazione un'uva che risulterà grazie anche alle tecniche di biodinamica decisamente più smussate nelle sue caratteristiche però ecco qua il gioco ritorna ad essere quello tra il nero d'avola e il frappato forse il nero d'avola viene leggermente addomesticato nella sua irruenza il frappato viene invece esaltato nella sua eleganza andando però a morbidire ulteriormente quello che è un tannino spesso e volentieri fitto e ben presente il fatto di aver lavorato così infatti il loro cerasuolo che fa il che fa anfora si chiama pitos li ha portati subito sotto i riflettori fatto capire immediatamente quello che era il potenziale portato avanti nel 1980 i tre erano veramente giovani da tre giovani all'avanguardia con un approccio biodinamico una visione naturale che al tempo un momento di forte industrializzazione ovviamente scarseggiava i tre però hanno continuato il loro lavoro tant'è che i vini prodotti dall'azienda oggi sono tantissimi però a me piace veramente sempre citare quello che è nero di lupo perché se è vero che in altre aziende abbiamo trovato facilmente un cento per cento frappato che cos comunque produce che un vino gradevolissimo immediato facile da bere il frappato qui viene reso ancora più più esile invece che più ricco qui troviamo con nero di lupo addirittura un'interpretazione perfetta e magistrale di quello che può essere un cento per cento nero d'avola portato però alla sua versione più elegante quindi non andiamo a marcare tanto quello che è l'aspetto di generosità proprio del nero d'avola quello che troviamo qua sono ovviamente degli accenni di bellissimi profumi floreali il nero d'avola tende soprattutto in gioventù anche avere questi richiami un po' vinosi ma vengono fuori queste note un po' di arancia sanguinella quindi di arancia estremamente matura profonda delle note che quindi sono in grado comunque di avvolgere e conquistare immediatamente ma il lavoro che portato avanti cosa ha ispirato tantissimi perché abbiamo citato giusto occhi pinti perché un'altra grande interprete del territorio di vittoria che non ti aspetti e quindi un'altra interprete a suo modo del della zona della reale ma non decisamente e non necessariamente la denominazione è la nipote ovvero arianna occhi pinti arianna rappresenta una delle storie di vino più belle in assoluto del nuovo secolo intanto se avevamo visto sulla sponda più del cerasuolo classico la storia appunto di andata e di ritorno di gulfi lo troviamo anche nel mondo e nelle versioni diciamo un po' più atipiche di questa denominazione e lo facciamo appunto attraverso quello che è il racconto di arianna laureata in enologia a milano siciliana ovviamente di origine decide poi di tornare alla base perché è lì che trova questo rapporto intimo e stretto soprattutto con il frappato che è un vitigno che lei ama particolarmente lo fa tornando su quella strada la sp 68 che da vittoria porta verso il nord nella zona di fossa di lupo ed è qui che decide di iniziare il suo progetto vitivinicolo di andare ad avere un approccio completamente naturale proprio come quello del dello zio cercando però di non utilizzare necessariamente l'etichetta del biologico o della biodinamica le piace pensare di avere proprio una conversazione un rapporto vero e proprio con il vino quasi come se fosse un individuo e questa è una cosa che arianna ripete più e più volte come il fatto che noi non abbiamo ereditato questa è una frase storica ma che arianna stessa ripete non abbiamo ereditato la terra i vigneti dai nostri genitori e dai nostri nonni ma semplicemente presa in prestito dai nostri figli dei nostri nipoti questo per far capire l'importanza di curare di migliorare quello che abbiamo in mano questo spinge poi in assoluto il suo modo di lavorare nella direzione del naturale andando ad esaltare poi la territorialità perché è uno degli aspetti che le interessano maggiormente e le interessa così tanto da andare a lavorare addirittura su un sistema di contrade quindi cercando di valorizzare proprio i microterritori rispetto allo zio alla possibilità di confrontarsi con un suolo che è analogo perché la componente di sabbia e quello zoccolo di calcare rappresentano un qualche cosa di fondamentale è la base proprio di lavoro per i suoi vini però qui le influenze dei monti lei invece si fa sentire soprattutto in quelle che possono essere degli aspetti di ventilazione quindi di venti di ridiscesa e quindi anche di escursioni termiche il contrade vale la pena comunque citare pettineo bombolieri ma soprattutto grotte alte siamo il nome stesso ce lo fa capire nella zona più alta siamo intorno ai 300 metri di altitudine ed è qui che arianna va a vincere una scommessa andando a ideare ipotizzare disegnare ma poi anche a creare quello che è un tutti gli effetti un cerasuolo di vittoria unico nel nel suo genere intanto per l'eleganza per la finezza qui il frappato e il nero d'avola giocano alla pari 50 per cento e 50 per cento il modo di lavorare completamente naturale un passaggio in legno di ben 32 mesi uno dei passaggi in legno più spinti in assoluto per arianna ma non soltanto per arianna è proprio per il territorio in assoluto per la produzione del cerasuolo di vittoria è un passaggio in legno possibile grazie a proprio la sostanza la materia naturale che arianna riesce a portare in cantina intanto giocando su questi due vitigni lei stessa evidenzia sempre molto come questi due vitigni grazie ai terreni le caratteristiche climatiche riescono ad esprimere da un lato la setosità e dall'altro l'eleganza quindi la traduzione proprio quella di un vino che ha si muscolo ma non troppo si profondità ma non troppo e la setosità e la succosità è quella che è un lato quasi sua dente che gioca il nero d'avola e dall'altro invece sull'altra sponda e frappato porta questa bella freschezza questa grande scorrevolezza questo leggerissimo grip dato da questa texture di tannini importanti per un vino che è già diventato un cult